Preghiera islamica sul sagrato della chiesa in piazza Garibaldi, pieno centro di Cantù, un incontro organizzato lo scorso sabato sera da parrocchie cooperative e gruppi del territorio con l'associazione Assalam in occasione del Ramadan, è diventato un caso politico con relativo scontro tra Lega e PD. Tra i primi a intervenire il sottosegretario all'interno e il canturino Nicola Molteni, esponente del Carroccio, l'immagine della preghiera islamica riservata ai soli uomini sul sagrato della chiesa di San Paolo mi preoccupa e inquieta profondamente è il commento di Molteni. Il legittimo dialogo interreligioso, spiega il deputato della Lega, non significa rinunciare ai simboli di una comunità improntata ai principi cattolici e cristiani. Occupare il sagrato di una chiesa, simbolo della nostra comunità per concludere la preghiera del digiuno in tempo di Ramadan, non è un segnale di tolleranza ma di un relativismo e di un pensiero debole dominato da una perdita di identità rispetto ai valori occidentali, ha aggiunto. Concludendo, dialogo significa confronto ma anche rispetto delle regole, riferendosi al lungo braccio di ferro tra comune di Cantù e comunità islamica sulla preghiera nel capannone di Via Milano. Inquietanti sono le parole del sottosegretario Molteni, scrive su Facebook la deputata comasca del PD Chiara Braga. Molteni dovrebbe rispettare chi ogni giorno si impegna per promuovere vera inclusione e integrazione, interpretando con grande coerenza proprio quei valori cristiani che dice di voler difendere. Si è trattato di un'occasione di concordia e di pace, aggiunge il consigliere regionale Dem Angelo Orsenigo. Urlare al sagrato occupato o dare l'allarme per la perdita di identità e dei valori occidentali è il tentativo della Lega di strumentalizzare l'evento.